Il rapporto medico-paziente è un rapporto molto particolare, delicatissimo, basta poco per alterarlo in un senso o nell'altro. Parliamo col professore Isaia per farci raccontare una cosa apparentemente molto semplice ma che ha avuto un significato interessante per facilitarlo e renderlo diciamo così più corretto in un certo senso. Siamo qui a Bologna in occasione del dodicesimo congresso nazionale della sinosola. Professore cosa avete fatto per i pazienti con osteoporosi al momento della diagnosi? Allora tutti sanno che il rischio di fratturarsi nel paziente osteoporotico non è soltanto legato alla densitometria. La densitometria è certamente un elemento importante in quanto più è bassa più il paziente ha il rischio di fratturarsi ma non è l'unico elemento, è opinione comune che molti pazienti, le vediamo spesso anche noi, magari con una densitometria molto bassa non si fratturano affatto, altri invece con una densitometria, non dico normale ma borderline, sono sempre fratturati. Allora da qualche anno è venuto fuori nella comunità scientifica internazionale l'esigenza di disporre di algoritmi, cioè di carte del rischio praticamente che in qualche modo integrano il dato densitometrico con dei dati clinici, l'età, il sesso, l'assunzione di cortisone, le precedenti fratture eccetera. Allora di fronte a questo scenario in cui noi stiamo da anni come comunità scientifica a stimolare i medici a fare sempre le carte del rischio, è venuta una cosa che a noi non è piaciuta affatto e cioè che alcuni densitometri emettono di default proprio d'ufficio, quando il paziente o la paziente ha una densitometria anche di poco inferiore alla norma, emettono d'ufficio la scritta alto rischio di frattura, in inglese ma diciamo che ormai la comprendono tutti. E che viene stampata proprio sul referto che il medico quindi può leggere. Esattamente, il medico può leggere ma soprattutto la legge il paziente, il quale spesso arriva ovviamente non avendo gli strumenti culturali per valutare cosa vuol dire alto rischio di frattura arriva allarmatissimo, pretende una terapia e in questo senso spesso viene assecondato dal medico, magari il medico di famiglia che per anche medicina difensiva diceva io in fondo lo scrivo in modo tale che se si frattura io non ho responsabilità. Allora noi abbiamo fatto un'operazione l'anno scorso con la regione Piemonte e abbiamo rappresentato questa anomalia che in fondo il rischio è un dato clinico, non può essere espresso da una macchina per quanto sofisticata e allora abbiamo fatto togliere la scritta alto rischio di frattura in tutti i pazienti che avevano una densitometria bassa, riservando invece al medico il diritto dovere di identificare questo rischio e anche di quantificarlo, perché rischio alto cosa vuol dire? Vuol dire un po' alto, molto alto, 10, 20, 50%, quindi noi abbiamo degli algoritmi tra i quali usiamo ormai comunemente il DEFRA che praticamente ci consente, ovviamente non è la sfera di cristallo, ecco ci sono anche lì dei margini di incertezza, però a grandi linee ci permette di dire a questa signora, guardi lei ha una densitometria bassa, però in questo momento non è a rischio perché non ha altri fattori di rischio, oppure perché è giovane, la controlliamo nel tempo ma non facciamo nessuna terapia. Quindi per il bene del paziente decide il medico e non la macchina? Sì, direi che questo è un concetto di carattere generale che noi cerchiamo di, come dire, e instillare le nuove generazioni molto spesso propense a delegare alla tecnologia che ovviamente ci ha dato degli aiuti enormi dal punto di vista diagnostico, però ricordiamoci sempre che la medicina è fondata, deriva dalla filosofia, deriva dal pensiero filosofico greco, romano e quindi dobbiamo attenerci un pochettino a questa linea di pensiero. Grazie.